Le agende digitali non possono e non devono essere definite e attuate esclusivamente dagli uffici di competenza di un'amministrazione, ma per prendere vita hanno bisogno di essere condivisi attraverso dei percorsi di partecipazione che le pubbliche amministrazioni mettono in piedi per condividere con cittadini, imprese, con i portatori di interesse in senso lato. La Regione Umbria è stata una delle prime in Italia ad attuare un percorso di partecipazione del genere. E infatti ne parliamo oggi con Giovanni Gentili, responsabile dell'agenda digitale della Regione Umbria, cercando anche di capire quali sono i punti nodali e i rischi di percorsi del genere. Perché è importante costruire e attuare un'agenda digitale attraverso un percorso partecipato? L'agenda digitale significa cercare di costruire in maniera condivisa un insieme di iniziative sinergiche tra loro. Iniziative costruite insieme ma poi portate avanti da ognuno degli attori, attori che possono essere sia pubblici che privati. Perché portare la trasformazione digitale in tutti gli ambienti chiaramente non è un impegno che può essere portato avanti da un singolo attore. Parliamo quindi di una costruzione di una policy che per avere successo deve avere impegnati tanti attori diversi. E la fase iniziale sarà quella appunto dell'agenda setting in cui si fissano le priorità, le cose da fare, ma anche nelle fasi successive dove si definiranno gli strumenti attuativi della policy, l'esecuzione dei progetti, la valutazione dei benefici. Parliamo di tutte fasi in cui non può che esserci anche un percorso di collaborazione e di partecipazione. Questo perché rispetto all'efficacia delle politiche pubbliche in un mondo che è di crescente complessità, anche l'Ox da poco ha detto che ci vuole un approccio sistemico, cioè non è possibile affiancare una serie di politiche che sperano che poi il quadro complessivo si componga da sé. Quindi la complessità delle sfide che abbiamo oggi richiede questo approccio sistemico e la trasformazione digitale ha anche altre complessità legate alla tecnologia, alla sua natura trasversale che coinvolge tutti i settori dell'ente, coinvolge più enti, coinvolge anche gli attori privati. Un cambiamento che chiaramente è anche culturale. Quindi l'agenda digitale semplicemente non è un'agenda digitale se non ha anche un percorso partecipato che sostiene tutto quanto quello corretto. Potete chiamarla agenda digitale ma se non c'è la fase partecipata e costante al massimo avrete un piano portato avanti da un singolo ente. Quali sono i rischi principali da evitare nel progettare e realizzare un percorso partecipato in ambito di agenda digitale? Il percorso partecipato non può essere semplicemente una consultazione estemporanea o attivare un ideario per raccogliere suggerimenti online, un forum che si apre per un periodo. Sono cose estemporanee che possono addirittura essere crontoproducenti perché soprattutto se si ripetono nel tempo bruciano la buona volontà, le aspettative degli stakeholder che vengono coinvolti. Quindi bisogna definire un vero e proprio progetto, un progetto dedicato al percorso partecipato che ne fissi gli obiettivi, le responsabilità, i tempi, gli strumenti, i metodi e anche gli indicatori stessi che valutino la bontà del percorso. Le sinergie di cui abbiamo parlato, positive sinergie tra le azioni dei vari settori, dei vari attori coinvolti nel percorso di agenda digitale, richiedono che il percorso vada ad avere alcuni elementi, richiedono sicuramente un forte impegno del vertice politico, un commitment di alto livello, questo è inevitabile. Poi richiedono di rispettare tutto il quadro strategico europeo, nazionale e regionale perché è inutile introdursi in un percorso di questo tipo senza rispettare dall'inizio tutti gli elementi architetturali e tutti i vincoli che ci sono nei fondi, il che vuol dire anche comunicare agli stakeholder questi vincoli. Richiedono che il dialogo sia costante tra amministrazioni dentro gli uffici dell'ente, questo deve essere un modus operandi consolidato all'interno degli attori coinvolti nel percorso perché non può essere anche questo inventato in breve tempo, quindi una prima fase del progetto, se non ci sono le competenze, se non c'è il pregresso, deve puntare a questa capacitazione, a costruire almeno un nucleo minimo che sia abituato al dialogo, partire con un insieme di iniziative ristretto su cui avviare un percorso pilota. Poi un'altra cosa che è necessaria per il successo è sicuramente una impostazione partecipata di tutte le fasi, quindi sia l'agenda setting, sia l'impostazione del programma operativo, delle policy, il co-design nell'esecuzione dei singoli progetti, ogni fase deve essere partecipata, ma ogni fase è diversa in questa partecipazione, mentre sto facendo l'esecuzione dei progetti non chiedo delle idee generiche su cosa faremo domani. Tutto questo richiede anche una pianificazione integrata delle diverse fonti di finanziamento, non è un aspetto banale, non posso fare il percorso partecipato sulle idee quando è già definito che i fondi sono dedicati a A, B e C, e così via. Ci vuole consapevolezza e precedenti esperienze in tema quindi di Open Government e sicuramente è bene che il progetto costruisca anche delle capacità organizzative stabili dedicate a seguire il processo. Non è possibile infatti che il processo sia seguito a tempo perso, diciamo. Che tipo di percorso ha realizzato e sta conducendo la Regione Umbria per l'attuale Agenda Digitale? Che risultati avete ottenuto? L'Agenda Digitale dell'Umbria fin dal 2013 ha seguito i principi dell'Open Gov, quindi con Open Gov, amministrazione aperta, intendo qualcosa che non è solo trasparenza, non è solo partecipazione, non è solo collaborazione. Tutto questo messo insieme. Come dice Lorenz Lessig, l'Open Gov fa succedere una cosa che molti pensano impossibile, una pubblica amministrazione che funziona. Personalmente sono convinto che questo è vero, che l'Open Gov è assolutamente necessario, è l'unica via che fa succedere le cose, il cambiamento, ma questo non è una cosa istantanea, richiede tempo, richiede un percorso costante svolto sul medio periodo. Quindi il percorso partecipato dell'Agenda Digitale dell'Umbria parte nel 2013 con la realizzazione di un ideario e la costruzione dell'agenda regionale prima che fossero scritti i programmi operativi regionali, i POR, quindi tutto il lavoro fatto nella fase di dialogo 2013-2014 ha permesso di costruire quello che poi è stato scritto nei documenti del FESR e dell'FSE e questa è stata la fase di vera e propria agenda setting, di analisi del contesto, di definizione delle policy e quindi di definizione di dove sarebbero stati investiti i fondi. Il percorso poi ha avuto una seconda fase nel periodo 2015-2016 con l'organizzazione di un ciclo di focus group, poi anche con un evento del 2015 che ha accompagnato il co-design dei progetti che entravano nella fase dell'esecuzione, quindi della prima ondata di progetti. Nel 2017 sono state allineate le linee guida strategiche dell'agenda con i nuovi obiettivi della legislatura regionale, nel frattempo c'erano state le elezioni e ora la giunta regionale ha tra poco deliberato l'avvio di una terza fase approvando il percorso di dialogo dell'agenda digitale per il periodo 2018-2020, quindi troverete il documento nell'area tematica sull'agenda digitale del sito istituzionale della regione Umbie. In questa terza fase si tratta di sostenere l'attuazione dei progetti più complessi e che sono quelli che sono adesso nella fase di progettazione esecutiva o di prima realizzazione, che nei prossimi tre anni andranno a realizzare gli ecosistemi di servizi digitali, le API, il rilascio dei link data, e sono tutti temi che richiedono un forte engagement degli stakeholder. L'esecuzione va accompagnata da un dialogo permanente con gli stakeholder interni, interni alla regione, degli enti locali coinvolti, delle altre articolazioni regionali, ma anche il dialogo con gli stakeholder esterni, gli ordini professionali, le associazioni di categorie, l'università, il mondo della ricerca, eccetera. Questo, diciamo, nel percorso che parte adesso, punta a strutturare un dialogo che abbia delle scadenze regolari su dei temi che vengono portati avanti insieme agli stakeholder in maniera costante, in cui durante il percorso si vada a monitorare insieme non solo l'avanzamento degli output, il rilascio dei prodotti, ma si vada a verificare insieme che questi risultati vadano effettivamente in conto alle aspettative degli utenti, quindi con delle manovre anche correttive. Questo può esserci solo se c'è una discussione che va avanti in maniera strutturata, attivare un vero percorso di collaborazione che porti a migliorare i risultati, ma anche a valutare insieme i benefici finali. Molte volte la fase dei benefici, che è quella più complessa da valutare e che va oltre anche la chiusura formale della realizzazione progettuale, iniziamo a parlare della fase dell'esercizio, è una fase in cui il progetto è finito e non c'è più un'attenzione alla verifica dei benefici e di come stanno andando le cose. Questo, tramite un percorso che è a sé stante, quello di dialogo quindi che è permanente, speriamo possa permetterci di coprire anche quella fase che di solito non viene coperta, quella di quando il progetto si chiude e le cose entrano in esercizio. Grazie a tutti.